È passato un mese e mezzo di fatto nell'ultima gara delle Superbike, si è corso infatti a inizio marzo in Indonesia, si torna a correre in Europa per la ripresa del mondiale Superbike a fine aprile ma non cambia la sostanza, Bautista e la Ducati di fatto dominano andando a mettere in fila come perline tutti gli avversari e come a Philippa Island Bautista confeziona l'ennesima tripletta della sua carriera e evidentemente mette già adesso una cartina di tornasole, una pietra migliare già non solo per la Ducati nella storia perché parliamo di 400 vittorie in carriera per quanto riguarda Ducati in tutta la Superbike ma di fatto non dico per il mondiale ma quantomeno per togliere un avversario, ne parleremo comunque nel recent podcast di oggi in una giornata che per la categoria regina e anche per la categoria intermedia la Supersport ha regalato di fatto un e un solo dominatore, la casa è sempre la stessa, parliamo della Ducati che il Superbike domina oramai da un paio d'anni con la Ducati V4R e soprattutto con Alvaro Bautista, cavallo di ritorno l'anno scorso che ha veramente concretizzato quello che aveva lasciato perso nel 2019 con quel mondiale buttato alle ortiche, qui invece parliamo di una base ancora più solida, parliamo già di un lavoro fatto molto bene l'anno scorso se alla base dell'anno scorso aggiungi che Bautista vince anche nelle piste tecnicamente non favorevoli perché Arsenal è una pista molto guidata con pochi allunghi di motore dove la Ducati evidentemente può fare tanto bene allora questa gara di Arsenal soprattutto la seconda, quella che si è chiusa di fatto non più di due ore fa è una pietra tombale di fatto sul mondiale, c'è ancora un contender in gara, lo vedremo nella classifica però evidentemente Bautista ha già adesso al terzo evento di 12 in programma la chance di essere probabilmente il one man show di questo mondiale superbike in un'era del motorsport dove appunto di base tranne probabilmente in MotoGP dove l'equilibrio regna sovrano dove appunto evidentemente c'è un grande dominatore che la spiega agli avversari in Formula 1 c'è Verstappen e in Red Bull, in Superbike c'è appunto Bautista con questi Ducati se poi aggiungiamo al fatto che alcuni avversari si fanno fuori da soli per errori e ovviamente anche per pacchetti inferiori allora la classifica che vedremo più avanti è spiegata le gare di fatto non è che hanno molto da dire, sono state gare divertenti ma per i posti al di fuori evidentemente del podio in alcuni casi quindi di fatto i posti che non contano e in altri casi invece per il podio e qui però parliamo di quello che è successo al più ricampione del mondo Jonathan Ray perché in gara 2 in curva 9 il nordilandese perde l'anteriore e di fatto dice addio a ogni possibilità di podio in gara 2 e questa caduta evidentemente è il sintomo di come evidentemente il mondiale superbike sia di fatto una questione tra due contender possibili che è Bautista evidentemente e anche Rasgatioglu che limita i danni e fa tre podi in una però pista dove poteva secondo me fare di più al netto questo Bautista era assolutamente dominante Ray come vedremo è in una posizione di classifica non consona è vero che anche la Kawasaki non è più quella moto dominante di qualche anno fa è evidente però che probabilmente rispetto già a Ducati e a Yamaha la Kawasaki sia di fatto la terza vettura o meglio moto in pista e qui non ci sono particolari problemi basta vedere poi chi è arrivato nelle prime dieci posizioni anche nelle molte gare che hanno visto protagoniste del superbike ad Asso ben tre in alcuni casi addirittura parliamo di quattro Yamaha nei primi dieci quindi qualcosa che un tempo era appannaggio di Kawasaki Jonathan Ray cade e dice addio alle speranze di campionato già alla terza gara Michael van der Mark invece cade e si fa parecchio male viene sbalzata dalla sua BMW M1000RR alla Chican prima di dare il traguardo parliamo di fatto dei primissimi giri di gara a curva 16-17 si impenna la moto di van der Mark che viene sbalzata in aria per tre metri van der Mark poi cade a terra rovinosamente ed è probabilmente un infortunio serio l'ennesimo del bravo pilota olandese che da quando è arrivato in BMW ha fatto più tempo in infermeria che in pista però van der Mark non è di certo l'ultimo dei fermi ed è un peccato perché è uno dei miei piloti sicuramente preferiti soprattutto poteva fare molto bene in questa BMW gli infortuni che stanno pregiudicando probabilmente non dico la carriera ma comunque delle gare ad alto livello speriamo che per il proseguo della stagione van der Mark possa tornare a livelli comunque interessanti e accettabili probabilmente non lo vedremo in gara a Barcellona prossimo round che si correrà tra due settimane dunque nel mio piccolo augurio di pronta guarigione a Michael van der Mark mentre la classifica di superbike è quella che vediamo in questo momento appunto Bautista di fatto ha vinto tutte le gare che poteva vincere tranne la sprint race di Mandelica dove è caduto e si è ritirato per il resto parliamo di un dominio che neanche Verstappen in Formula 1 o probabilmente è comparabile sono 174 i punti per il pilota spagnolo per il quale suona per tre volte la marcia del sogno nazionale e negli altri casi il podio è spartito evidentemente dai big three di questa disciplina ovvero Ray Erasgatioglu e in altri casi se ovviamente uno dei big three cade allora c'è spazio per gli altri infatti nelle gare del sabato pomeriggio e della domenica mattina il podio è sempre lo stesso con Bautista primo Erasgatioglu terzo e Ray secondo con Ray che però con la rovinosa caduta di gara 2 finisce in quinta posizione assoluta all'interno del campionato del mondo superato addirittura da uno straordinario Axel Bassani e da un Andrea Locatelli che fa un podio importantissimo per la Yamaha ufficiale e anche per il morale del pilota di Selvino il campionato di squadra di Topper Erasgatioglu completa una grandissima gara solita superando proprio lo stesso Bassani e anche Dominic Goethe una delle vere rivelazioni di questo mondiale superbike quantomeno nel round di Assen e fa un podio importantissimo al netto che evidentemente raggiungere Rasgatioglu e soprattutto Bautista Prime in questo momento è veramente complicato certo che vedere questa classifica fa molta specie perché siamo di fatto a un quarto di campionato tra i 20 di 12 e il margine evidentemente di Bautista su Rasgatioglu unico vero contender di questo campionato del mondo è incredibile perché Bautista o è caduto o ha vinto e tra due settimane si corre a Barcellona pista assolutamente geniale alla Ducati e soprattutto a questo Bautista che probabilmente è puntato in pretta anche la prossima gara è un mondiale che se non è chiuso poco ci manca speriamo che comunque soprattutto Rasgatioglu a questo punto possa fare un salto in avanti importante perché la Superbike ha bisogno di un duello e non di un dominatore per quanto il stivuto da Ducati sia comunque molto contento di vedere la scuderia di Borgo Panigale vincere è comunque ancora una volta grande Italia nel mondiale Superbike per quanto riguarda il round di Assen perché appunto Locatelli fa un podio straordinario in gara 2 fa quarto e quinto nelle altre due competizioni sorprende ma forse neanche più di tanto Axel Bassani che con il team più privato di tutti la Ducati del team motocorsa tutte le volte nelle gare lunghe fa top 5 fa sesto addirittura nella sprint race che è vero da pochi punti ma comunque è quarto nella classifica del mondiale battendo fior fior di campioni appunto come Jonathan Ray oppure piloti che sulla carta erano più quotati vedi per esempio Michael Rinaldi che in realtà in qualificazione ad Assen non ci ha capito niente e ha fatto delle prestazioni incolori due pezzamenti a punti sì ma per la seconda Ducati ufficiale di certo bisogna aspettarsi molto di più piloti come Danilo Petrucci che stanno prendendo sempre più la mano con questa Superbike con un'altra Ducati privata del team Barney Spark riesce a fare tanto tanto bene i piazzamenti in top 10 per questo Petrucci sono secondo me tanta roba un'Italia che comunque si difende alla stragrande arrivano anche i punti per Lorenzo Baldassarri che di fatto è l'esordio assoluto in Superbike Baldassarri non parte in realtà per prendere i punti di fatto in tutte le gare però quando c'è la possibilità arrivano appunto i piazzamenti nei primi 15 sono punti importanti per il molare del pilota marchigiano c'era anche un altro italiano in gara ovvero Gabriele Rui il pilota romano che ha corso una gara in wildcard con BMW però piazzandosi nelle retrovie della classifica per appunto un mondiale Superbike che conferma quanto visto evidentemente nelle prime gare cioè che è tolto evidentemente Jonathan Ray la Kawasaki fa oltre modo fatica basta vedere i piazzamenti di Alex Lowe settimo, quarto e nono in particolare appunto nelle due gare lunghe Yamaha ha un gran pacchetto perché sia la squadra ufficiale sia il team clienti GRT ha piazzato dei piazzamenti appunto importanti in zona punti e nelle parti che contano quindi i primi cinque posti scusate peraltro il gioco di parole evidentemente Honda fa un passo indietro BMW ancora una volta non pervenuta Ducati è evidentemente il miglior pacchetto perché Tolto Bautista che comunque dispone di un mezzo incredibile ma di meno talento rispetto secondo me a Rasgatiogli a Jonathan Ray gli altri Ducati sono ben comportati spesso piazzamenti nei primi dieci anche nei primi cinque con delle moto tecnicamente non ufficiali quindi è sicuramente un duello di squadra come due forze in pista tra Ducati e Yamaha certo che vedere sempre Rasgatiogli e Bautista davanti a tutti è molto bello sarebbe bellissimo però vedere un duello vero e proprio anche con Jonathan Ray come è capitato di rado in questa stagione perché è veramente Bautista sembra avere una spanna in più per quanto riguarda dunque il weekend di Assen diamo ad ora i tre premi di rider del giorno prima di passare alla Supersport e alla Supersport 300 sicuramente un rider del giorno va dato ad Andrea Locatelli per il podio effettuato in gara 2 un rider del giorno va dato sicuramente a Dominic Gerter che è stato il dominatore delle due stagioni precedenti di Supersport è arrivato in Superbike di solito il passato da Supersport a Superbike non è così semplice e invece Gerter si è comportato da Dio e ha fatto tre gare sontuose con un quarto posto in gara 2 come miglior risultato di carriera e chissà che lo Svizzero non possa puntare a un podio già in questa stagione l'ultimo rider del giorno lo do ad Axel Bassani perché ripeto è vero che non è la grande sorpresa come gli anni scorsi ma confermarsi nei primi 5 con una Ducati privatissima del team motocorsa e tantissima roba mi auguro che un domani il pilota Veneto possa arrivare nella Ducati ufficiale chissà magari al posto di quel Michael Rinaldi o al posto di quel Bautista che comunque ricordiamo non è più un ragazzino per gli anni a venire la Ducati si è molto cautelata con Bassani e mi auguro possa fare il salto di qualità nel team Aruba Racing team Aruba Racing che l'ha spiegata tantissimo in Superbike team Aruba Racing che l'ha spiegata tantissimo anche in Supersport perché se c'è un dominatore nella categoria regina c'è un dominatore anche nella categoria intermedia ed è Nicolo Bullega il pilota di Montecchiemiglia che peraltro è a 35 km da casa mia fa una gara alla Bautista di fatto domina in lungo e in largo il weekend di Arsenal e allunga in testa al Mondiale dopo aver non vinto il round di Mandalika perché in Indonesia hanno vinto Federico Caricasulo anche lui su Ducati e Gianoncu su Kawasaki team Puccetti peraltro Gianoncu si è infortunato rompendosi lui nel radio del braccio sinistro e quindi sarà un infortunio serio auguri di pronta guarigione anche per Gianoncu che poteva puntare secondo me a un podio in tranquillità in entrambe le gare di Assen una classifica comunque che resta in questo modo Nicolo Bullega vince due gare su due ad Assen e per lui suona il canto d'Italia nel studio nazionale 127 punti per il pilota di Montecchio Emilia sono 37 di vantaggio su Stefano Manzi che fa un podio importantissimo in gara 2 per limitare i danni ricordiamo che Manzi ha cambiato squadra da Triumph è passato a Yamaha Team Tenkate peraltro bicampione in carica terzo posto invece in gara 2 per Federico Caricasulo che di fatto ha nella sprint race o meglio nella seconda gara della domenica mattina probabilmente il punto di forza dopo aver vinto a Mandalika di fatto un mese e mezzo fa il podio di gara 1 invece è molto particolare perché è vero vince Nicolo Bullega ancora una volta ma c'è il primo podio in carriera in Supersport per Marshall Schröter pilota tedesco che proviene dalla Moto2 primo podio anche per MV Agusta in questa stagione Schröter partiva a 9 fa una grandissima gara di rimonta in seconda posizione in gara 1 e quarto in gara 2 terza posizione invece per il pilota di casa Glenn Van Stralen che anche lui fa una grandissima rimonta e completa comunque una bellissima gara davanti al proprio pubblico per una Supersport che non è indirizzata evidentemente come la Superbike perché il livello è probabilmente più alto nel complesso nella categoria intermedia che in classe regina ma comunque 37 punti di vantaggio anche qui a un quarto di campionato sono molto molto interessanti per Nicolo Bullega pilota che ha assolutamente bisogno di riscatto soprattutto dal punto di vista del morale e queste prestazioni in Supersport le possono assolutamente aiutare in Supersport ha corso anche la Supersport 300 peraltro gara che ho finito di vedere pochi minuti fa breve riassunto c'è una prima vittoria in carriera in entrambe le gare perché in gara 1 ha vinto il pilota della Repubblica cieca Peter Svoboda per il quale suona il suono nazionale che è Dov'è la mia casa mentre in gara 2 ha vinto il pilota brasiliano Humberto Mayer anche per lui prima vittoria di carriera c'è soltanto un italiano a podio in due gare che è stato Matteo Vannucci in seconda posizione in gara 2 Vannucci uno dei piloti da tenere d'occhio per il titolo di categoria Supersport 300 che come Supersport e Superbike correrà la prossima gara ad Aragon e non a Barcellona come ho detto erroneamente Barcellona la rivedremo in realtà dopo Magnecourt è comunque una pista dove la Ducati dal punto di vista della dominanza diciamo così potrà secondo me recitare un ruolo importantissimo sia in Superbike sia in Supersport Superbike che ricordo a questa classifica Bautista è primo con 174 punti di fatto avendo vinto tutte le gare tranne una Razgat Yoglu è secondo con un campionato di fatto alla Jonathan Ray del 2019 ovvero limitando i danni vincendo ogni tanto e facendo dei podi qui e lì con delle gare molto costanti questo Bautista però sembra il momento irraggiungibile a un quarto di campionato sapere scattarsi il turco nelle prossime gare nei prossimi appuntamenti probabilmente lo scopriremo evidentemente già a partire dalla prossima gara tra due settimane il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo a un prossimo video